radio bruno in diretta dal festival di sanremo è stata la grandissima protagonista dell'estate 2018 l'unica la sola loredana bertè benvenuta grazie molto gentile ciao a tutti undicesimo festival i primi 40 anni di carriera una standing innovation che pazzesca veramente non me l'aspettavo anche perché a sanremo sono un po cartonati molto form formale il pubblico di solito di sala non si sbilancia più di tanto questa sera non so forse hanno bevuto qualche bicchiere di più no te lo dico io è il tuo pezzo che è bellissimo la canzone si non è in discussione ma forse la mia performance non lo so la senti appieno ogni parola è cuscita addosso a me se dureri pulli romitelli sono stati veramente bravi ma quando te l'hanno presentata subito ti è piaciuto mi è piaciuta subito altrimenti non l'avrei cantata nemmeno nel provino ok quindi grazie a questa canzone ci sarà una riedizione di libertè che esce l'otto di febbraio con questa canzone inserita e in più un regalo per i miei fan lo zoccolo duro due due medley che faccio di solito in tour la prima parte la seconda parte nella seconda parte questa volta abbiamo riunite l'abbiamo messa nel disco come tipo ghost track è un regalo che faccio ai fans un regalo meraviglioso allora in tutti questi e poi un momento è un vinile per i collezionisti anche perché vanno alla grande i vinili adesso questa è una cosa che mi fa impazzire il vinile è il vinile hai avuto una vita dove hai incontrato tantissime persone spericolata lo posso dire io lo puoi dire ma sei meravigliosa anche per tutto quello che hai incontrato anche persone meravigliose come Andy Warhol Andy Warhol ma come ti chiamava vissuto con lui praticamente due anni nella factory immagina io seduta sui Campbell veri quelli veri e lui che era molto interessato allo scuola pasta che diceva cos'è e dopo vedrai e ho detto cos'è e quindi mi chiamava pasta queen perché faceva una pasta da paura pasta da paura ma anche i secondi non ero male potevo fare master chef e potevi anche vincerlo sì sicuro sicuramente però mi sono guadagnata oltre che la stima sua come cuoca anche come artista perché mi ha fatto gratis un video nella copertina dell'album in più un sacco di foto che voglio di più andavo e venivo alla factory come se fosse casa mia ormai bellissimo torniamo al festival venerdì sarai sul palco con Irene Grandi e la trovo adattissima questo brano perché lei ha sempre cantato questo genere infatti la mia ragazza sempre è quella che avrei voluto cantare io figurati quindi è proprio precisa perché in questo mondo nel mood è proprio il suo poi abbiamo già provato ed è bellissimo il duetto è veramente molto carino assolutamente da non perdere da non perdere allora tutte le ascoltatrici di radio bruno ci chiedono come fai ad avere da sempre queste gambe meravigliose dunque faccio due ore di cicletta al giorno sono tre anni che non mangio un piatto di pasta niente latticini niente pane e niente purtroppo gelati caramelle roba di questo genere niente cioè dimentica tutto si mangio verdure lesse di tutti i tipi cosce di pollo che non sanno di niente bollite oppure ogni volta quando mi voglio proprio scatenare allora ci sono i gamberetti e basta allora io ti prometto ci provo 30 grammi di riso integrale però due ore di cicletta al giorno tutti i giorni sono tre anni ormai che sono dimagrita anche 10 kg ci provo perché il risultato se è questo ci voglio provare tanti sacrifici però bisogna essere precisi poi mi sembra giusto presentarmi al mio pubblico in ordine se stupenda perché la mia tournée che ricomincerà subito dopo il festival beh subito proprio no ma fine marzo primi di aprile bene dalla mia agenzia che la la mia manager francesca allo sappio 23 music joe and joe ok quindi aspettiamo con anzi a questo inizio di giorno dipende da loro quando mi fanno di mi dicono è ora di andare a cantare io mi vesto e vado ditelo in fretta quindi allora è da perché sono riciclata io non so come arisa che si porta il c'è il il furgoncino arisa i vestiti sì c'ha 400 vestiti 400 capaia di scarpe non so come fa e poi io invece c'ho quattro di questi li piego come me pare anche se sono stropicciati sono anche meglio ognuno un colore diverso la tua creazione la mia creazione chiaramente sì ma tu l'avevi detto non voglio stupere per i vestiti perché voglio che si concentri sono riciclati perché questi li metto sempre durante la tournée sono comodi molto comodi sì però l'avevi detto proprio per focalizzare l'attenzione per focalizzare l'attenzione meglio sul brano senti a proposito di sanremo ci sarà un omaggio importantissimo a mimì sì ho visto la fiction pazzesca questa ragazza serena rossi e strepitosa perché ha saputo cogliere piccoli gesti piccole cose che solo mimì aveva e quindi mi ha fatto venire devo dire la pelle d'oca quindi assolutamente da non perdere la sua interpretazione e anche l'omaggio di claudio baglione e proprio di serena rossi e lo ringrazio già da adesso perché lui è un bravo ragazzo e poi ha scritto lui il primo album di mimì gesù è mio fratello infatti l'aveva ricordata così eh sì emozionandosi tanto allora loredana io ti ringrazio tantissimo grazie a voi grazie a te grazie a tutti i ragazzi e a tutti gli ascoltatori votate per me votate per loredana per te un bacio a tutti e grazie di tutto sei veramente molto carina un bacio radio bruno in diretta dal festival di sanremo in collaborazione con mondo convenienza modena giochi italpizza biper banca ods giocattoli reno franciosi grissin bon marlu gioielli e dipinto di blu la moda che fa stile ожно no 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 no